Ciao a tutti, sono Beppe Burchi e mi interesso di fotografia. Come tutti in questo periodo sono chiuso in casa e spero di continuare a stare bene di salute così come spero di tutti voi. Questo sarebbe proprio il momento di dedicarsi dal punto di vista fotografico a realizzare quei tanti progetti a cui non abbiamo mai dedicato del tempo. Autoritratti, prove di still life con luci e filtri diversi, approfondire la conoscenza degli strumenti informatici, studiare meglio teoria e storia della fotografia, perfino conoscere meglio l'apparecchiatura che abbiamo a disposizione leggendo relative istruzioni che abbiamo messo in fondo a qualche cassetto. Purtroppo personalmente ho tutta la mia attrezzatura fotografica, sia di ripresa che del set, luci, fondali, eccetera, tutti i miei libri, i testi, tutte le mie fotografie analogiche e quant'altro, chiuse in studio a cui non posso avere accesso a causa delle restrizioni imposte dal virus. Allora mi sono dedicato e mi dedico all'organizzazione delle immagini digitali. Con il mio PC portatile ne ho parecchie, qualche decina di migliaia, per cui ne ho completato il relativo database, aggiornando e incrociando i dati con le memorie storiche, con le mie memorie storiche. Già solo il rivedere anche criticamente quanto realizzato in passato, sia dal punto di vista professionale, che da quello della ricerca, è un esercizio importante che serve a scoprire errori, ma anche a rivitalizzare tecniche e trucchi utilizzati e poi magari messi da parte. Ovviamente ho curato, ma lo curro da sempre, di avere vari di backup di quanto ho salvato, memorizzato. Ancora non posso, purtroppo, elaborare eventualmente le mie immagini, perché avendo a disposizione solo un PC portatile, non ho il desktop, soprattutto per il monitor, che deve essere correttamente tarato, che è anche quello in studio. Nelle pause mi dedico alla lettura, e quasi sempre, di testi ternici, ma anche qualche giochino che stimoli e possibilmente migliori la capacità di guardare e di approfondire la percezione visiva. Non trascuro di sfogliare sul web le gallerie di autori, delle tante mostre virtuali, delle immagini stock, per imparare a avere spunti da realizzare. Ecco, nell'attesa di venire liberato, di poter di nuovo uscire e principalmente tornare nel mio studio, questo è quanto. Spero di non avervi annoiato. E auguro tanta salute e buona luce a tutti.